Arriva una delle tante partite importanti, questa qua deve dire anche qualcosa in più rispetto a quello che è successo nell'ultimo periodo. La ripresa contro la Juve Stabia è buona per il risultato, però c'è tanto da crescere immagino. Sì, dobbiamo riprendere quello che abbiamo interrotto a Pagani, anche venivamo da due vittorie più il pareggio di Pagani. Dobbiamo riprendere quel modo di giocare, quelle intensità, quelle cose buone fatte, tenendo presente il fatto che abbiamo in più i nostri attaccanti, che piano piano stanno rientrando tutti, più l'arrivo di Corrado. Quindi possiamo avere a disposizione quello che ci è mancato per due mesi. Però, come dici tu, dobbiamo tornare a essere quella squadra che lo siamo stati, tranne quelle due partite di Caserta e Reggio Calabria. Poi anche lì andrebbero analizzate le attenuanti, ma diciamo così, dai. Senti, mi dai un giudizio sul mercato? Quello che volevi, qualcosa in più, qualcosa in meno? Dimmi un giudizio complessivo su quelle operazioni che sono state fatte. Ma guarda, io penso che sono state fatte operazioni, è normale, di quando sono subentrato, non era stata una squadra costruita in secondo le mie indicazioni. E questo era logico. Io sono convinto che abbiamo preso giocatori funzionali per giocare il mio tipo di calcio, no? Giocatori che sono venuti qua con delle motivazioni. Noi cercavamo quello, giocatori che avessero fatto anche un minutaggio importante nelle squadre di provenienza. Perché l'errore, tante volte, in questo mercato è quello di prendere giocatori, casomai, o da serie superiori, o da squadre anche, diciamo, chiamiamole più blasonate, no? Però che hanno, sono state fermi, casomai, 4-5 mesi. E quindi poi li devi mettere a posto. Io penso che è stato fatto un mercato intelligente, un mercato, soprattutto, di ragazzi che sono venuti con motivazioni per crescere nella loro carriera. Io sono un allenatore che non ho mai guardato il nome o il pedigree. Cioè, l'ho dimostrato anche lanciando giovani che, naturalmente, fino a mia riva avevano giocato poco. Quindi abbiamo cercato questo tipo di giocatori. Io sono contento di quello che ha fatto la società, sono onesto. Sono giocatori che ho richiesto io, che abbiamo valutato, sotto tutti i profili, soprattutto quello temperamentale. Perché questa squadra aveva bisogno, sono convinto, di giocatori oltre funzionari al modo di giocare, anche con caratteristiche per giocare a Catanzaro. Perché forse in alcune partite siamo stati un po' deficitari, nonostante la squadra abbia avuto, a mio parere, e Castellamare, Trapani, Pagani, una mentalità di giocarsela sempre, di non mollare, l'abbia raggiunta. Poi, con i propri difetti, a volte con i propri errori, come ci sono stati nelle ultime due partite di Caserta e Reggio. Nello specifico, Corrado è un elemento che tu conosci? Sì, sì, Corrado l'ho visto spesso giocare a Caserta. No, si è affrontato, no, però ho visto giocare quando lui, soprattutto, giocava a Caserta. Ora, quest'anno può aver avuto qualche problemino a Matera, però non è per quello che sia. Problemino intendo da un punto di vista di inserimento, di aver giocato un po' meno. Però è un calciatore che rispecchia quel tipo di centravanti per giocare in un certo modo. Si va per caratteristiche a sovrapporre, a completare, o diciamo nel dualismo con Infantino, ma che sicuramente può giocare anche insieme a Infantino. E quindi la scelta è caduta su di lui, per quello che ci poteva offrire il mercato, di quello che noi potevamo... Più che altro anche per le caratteristiche, no? Poi anche lui è un giocatore temperamentale, insomma, viene argentino, insomma, ha questa... Volevamo andare sulle motivazioni. Sulle motivazioni perché oggi sono quelle che, specialmente nelle zone di ritorno, servono. Servono e che forse alcune volte inconsciamente, inconsapevolmente, ci sono alcune tratte mutate a mancare. Dico, Pezzo Cianci probabilmente era la tua seconda scelta, no? Sì, sì, erano... Non è prima o seconda scelta, sai, erano quei due giocatori i quali noi avevamo messo insieme al direttore, all'avvocato, avevamo messo alla società, avevamo messo a occhio. Quindi uno o l'altro sarebbe stato perfettamente adatto a quelle che erano le nostre esigenze. Mister, che impressione le hanno fatti i nuovi arrivi e quale le sembra, o quali, sono i più pronti per giocare? De Giorgi a parte che l'ha già fatto. Beh, guarda, Seppe e De Giorgi venivano da un campionato dove ad Akagas e ad Andrea stavano giocando. Quindi, al di là della squalifica di Seppe, quindi sono giocatori, diciamo, un po' più pronti, no? Se dobbiamo dare un giudizio dello stato in cui sono. Di Corrado abbiamo parlato, viene da un periodo dove Amatera ha alternato nel momento in cui giocavo, no? E Badier, io penso possa essere questa, Badier sulla pronuncia, possa essere una piacevole sorpresa perché è un giovane di grossa prospettiva. Mi ricordo un po' il Marin che ho conosciuto, il Marin che ho conosciuto appena arrivato. Ha bisogno di fiducia, come tutti i giovani, però ha qualità, ha corsa, ha una descritta tecnica, deve lavorare da un punto di vista tattico perché viene a trovarsi in un sistema di gioco, in un modo di giocare che forse conosce poco. Però, diciamo, queste sono le caratteristiche. Seppe è il classico esterno di centrocampo che può giocare perfettamente in un 3-5-2, in un 3-4-3, ha un ottimo piede specialmente sul cross in corsa. E De Giorgi è quel giocatore che puoi alternare, come avete visto a Castellamare, entra da quinto, da quarto e poi se vuoi avere un po' più spinta lo puoi mettere terzo di difesa. Per come intendo io i terzi di difesa, tipo il gol che è venuto da sabato che entra palla al piede dentro il campo e mette palla, poi ci sono trovati Letizia e ha fatto il gol di testa Letizia. Cason? Cason è un giocatore che, a differenza di De Giorgi e Seppe, e che possono essere tutti e due adattati a terzo di difesa, centro-destra o centro-sinistra, può fare sia uno che l'altro, pur essendo un destro. L'ha fatto già in passato, può giocare sia centro-destra che centro-sinistra. È un difessore, io lo definisco, roccioso, molto forte sull'uomo. Abbiamo, e questo penso sia stato anche un merito dello staff medico del Catanzaro, avuto la tranquillità e la serenità di aspettarlo, aspettarlo perché si è presentato con un problemino che, onestamente, per tutto quello che abbiamo passato nel girone d'andata, oggi ogni minima cosa viene analizzata in maniera un po' più specifica. Una volta risolto il problema, della Caviglia è matato l'ok. Ha bisogno, perché è quello che è stato un po' più fermo di tutti, di essere messo in condizione per poter giocare. Mister, al netto degli arrivi che ci sono stati, dei ragazzi che si sono aggregati e che stanno già lavorando con la squadra, per adesso, pensa che il gruppo sia completo o che serva ancora qualcosa per poterlo puntellare? Io così sono contento, sono contento e sono soddisfatto di quello che abbiamo raggiunto, per quello che è il nostro obiettivo, per quello che è il nostro modo di pensare per quest'anno. Dobbiamo andare avanti con questo gruppo, abbiamo cercato di migliorare anche le qualità umane, che per me sono necessarie e oggi indispensabili, specialmente in un girone di ritorno, dove le partite valgono doppio, dove i risultati valgono doppio, dove viviamo un campionato che, senza togliere nulla ai gironi A e B, ha delle caratteristiche temperamentali diverse. Poi possiamo discutere sull'aspetto qualitativo più o meno alto, però quello io pensavo mi serviva, quindi io sono a posto così, non penso che possono avvenire altri cambiamenti, poi da qui dobbiamo lavorare molto sulle uscite, perché sapete che c'è una lista, c'è una lista over, quindi dobbiamo più concentrarci su questo. Poi non si sa mai, però ti ripeto, io sono felicissimo e contento così. Vedendo la partita di domani, quali sono le insidie che si aspettono? Le insidie che si aspettano? Io non vorrei parlare dell'avversario, anche se abbiamo una squadra di tutto rispetto, perché delle squadre fatte di giovani, secondo me è la più forte, che fa un buon calcio, con giocatori di prospettiva, ma mi voglio più concentrare su di noi, cioè io voglio che torniamo a essere quelli che siamo partiti nei primi 15 minuti di Castellamare, quelli che siamo stati il secondo tempo in 60 minuti indietro, ma quelli che siamo stati fino alla partita di Pagani. Io mi voglio concentrare su di noi, noi dobbiamo domani fare una prestazione sotto tutti i punti di vista, forse non tanto temperamentale, perché quello c'è sempre stato. Io penso che nella mia gestione è stato sbagliato in maniera clamorosa il primo tempo di Reggio Calabria, non è stata la mia squadra. Caserta c'era qua, c'erano tanti attenuanti, quindi io però questa volta so che questa squadra, l'ha dimostrata Caserta, ha raggiunto un aspetto temperamentale, poi può venire più o meno o meno, a volte non venire fuori come è stato col Cosenza, come è stato col Fondi, però voglio soffermarmi proprio sull'aspetto della manovra e del gioco. Domani voglio una partita dove noi manovriamo, dove noi creiamo, sta salendo la condizione di Infantino, abbiamo Corrado a disposizione che può entrare, sta salendo la condizione di Letizia, abbiamo di nuovo Kunzi, ci siamo appoggiati per tanti mesi ai ragazzi, mi riferisco a Lucano, mi riferisco a Puntoliere, tante partite abbiamo giocato con Canis centroavanti, che per l'amor del cielo ci hanno portato al sesto posto, perché fino a tre partite fa, quattro, la sosta non abbiamo giocato, eravamo sesti, però sono venuti a mancare quei giocatori che in alcuni momenti, vedi Letizia Domenica, ci ha risolto la partita, questo è anche il gioco del calcio, al di là del giocare più o meno bene a volte. Senti, in questi quattro mesi, da qui fino alla fine della stagione, molti si giocano molto, immaginiamo tutti quanti che, quelli che magari più attesi, tu facevi i nomi di Infantino e Letizia, inutile nascondere, sono i due che dovrebbero far fare il santo di qualità alla squadra, però insomma molti si giocano la conferma, probabilmente non so, forse anche tu, e quindi insomma in questi quattro mesi bisogna che veramente il Catanzaro, in tutte le sue componenti, dimostri di poter essere, o meglio, bisogna che si dimostri di poter essere la base per quello che sarà. Ha detto bene, ha detto la base, esatto, sono d'accordo, d'accordissimo, deve dimostrare di essere, ha detto la parola giustissima, la base per un eventuale futuro, al di là di chi ci sarà, chi c'è, ma io penso che tutti, il calcio, ognuno ci si deve riconfermare, deve dimostrare le cose fatte buone, di continuarle, e vale dall'allenatore, a tutti quanti, ai giocatori stessi, perché io penso che c'è la possibilità, a differenza, forse non voglio parlare del passato, di quello che è stato, però di costruire un qualcosa, che secondo me è nato, è partito, però non abbiamo ancora forse quella continuità che ci vorrebbe, per poterlo dire, secondo me, noi siamo sulla buona strada, quello lo dico, abbiamo avuto degli alti e bassi, specialmente queste due partite, che l'ho detto anche dopo, non ci siamo più sentiti dopo la partita con la regina, mi è dispiaciuto aver buttato via, tra virgolette, perché non è stato buttato via niente, nel senso perché è rimasto quello che è stato fatto, quei due mesi e mezzo di lavoro, fatti bene, perché non dimentichiamoci, che fino a due settimane prima, alla preda Paganese, tutti contenti, una squadra che corre, una squadra che aggredisce, una squadra che ha una fisionomia, che ha un'identità, che finalmente lotta fino alla fine, due partite non possono cancellare tutto, ecco, mi è dispiaciuto un po' questo, come domenica forse in sala stampa, è stata detta qualche parola di troppo, perché a volte ero stato anche punzecchiato, non da voi, ma definendo il mio gol fortuito, se c'era un gol fortuito, forse è stato quello che abbiamo subito noi, con Zalini che ce l'ha buttato dentro, per chi viene sempre agli allenamenti, il nostro gol è la nostra azione per eccellenza manovrata, col terzo di difesa che entra e mette palla, quindi sai, a volte anche gli animi a fine partita, anche noi dovremmo essere un attimino un po' più, quello che diciamo, un po' più lucidi da un punto di vista del fine partita, questo senza ombra di dubbio, anche perché mi ritengo una persona abbastanza razionale, e nelle mie disamine sono sempre stato abbastanza, anche quando ho giocato bene, ho detto che a volte non si meritava, a volte ho perso, ho detto vedi Siracusa, si meritava di vincere, ecco questo è. Senti, domani ti mancherà Marine, vabbè per la sostituzione provvederei tu, ma insomma Marine forse una tirata d'orecchio andava fatta. Sì, sì, andava fatta, io sono d'accordo, allora io sono un anatore che gioca molto sul temperamento, sulla corsa, però ci sono dei momenti in cui non lo puoi fare, è giovane, l'attenuante può essere quella, però io vivo questi ragazzi tutti i giorni, poi dopo passa anche col tempo, e tra virgolette ci si affeziona anche al modo che hanno in cui essere, qui sono. Fine partita lui è venuto, era in lacrime, mi ha chiesto scusi, lacrime a me ragazzi, è finito la partita sui social, penso abbia fatto più di una cosa, quindi devo sempre, non me l'aspetto da, da un infantino, ho fatto un esempio, da un sabato, da un dinunzio, lì la prendo, la prendo un po' più alla leggera, però ci dobbiamo dare una calmata, perché poi giocare anche sempre, insomma, andare in inferioreità non è facile, però, se lui è stato espulso, penso andava buttato fuori anche, anche il, anche il, anche il canotto, perché ha proprio letteralmente strapazzato, è buttato per terra, forse noi siamo stati anche troppo corretti, sabato è stato anche troppo corretto, nell'un fare scena, a differenza, però, va bene. Come pensa di sostituirlo, visto che ha approvato diverse soluzioni in questi giorni? Ma guarda, io, io, io ho sempre il crucio che, io voglio trovare i gol, io voglio trovare i gol, voglio trovare i gol, perché ci sono mancati tanto, abbiamo sopperito in tante maniere, nell'essere più o meno aggressivi, nell'essere più o meno alti, nel manovrare, però oggi che io posso, posso riuscire a avere, anche se ancora non sono al top della condizione, i miei attaccanti, voglio cercare di sfruttarli tutti. La sostituzione, abbiamo fatto un gioco per alcuni mesi, che era talmente aggressivo, talmente un gioco dispendioso, che forse, reggerlo per tanto tempo non era possibile, anche per alcune caratteristiche dei giocatori che rientrano, però si può sempre continuare a giocare con più attaccanti, cercando di essere un po' più equilibrati, nella fase di non possesso. Io ho un'idea, cioè domenica a Castellamare, è vero che siamo stati un po' fortunati, nel non prendere il secondo gol, però abbiamo corso tanto, in mezzo al campo, siamo rimasti con i due attaccanti, e due soli mediani, e hanno fatto un partitone. Io parto sempre, che è una questione a volte anche proprio di testa, però, anche se dovessimo giocare con i due mediani, invece che con i tre, dobbiamo sfruttare meglio la fase di non possesso, per quelle che sono le loro caratteristiche, le mettere in condizioni di essere più lucidi, quando hanno palla, e casomai spendere meno energia, nel momento in cui dobbiamo difenderci.